Nonostante sia stato aperto da poco più di sei mesi, il polo Artemisia a Tassignano si è già fermato come un punto di riferimento culturale della Piana di Lucca. A confermarlo sono i dati. La biblioteca Ungaretti ha fatto registrare un incremento dell'utenza del 55%, che è passata da una media di 105 persone della vecchia sede in piazza Don Cesare Stefani a quella di 163 persone al giorno. Questo ha portato anche a un aumento del numero dei prestiti dei libri, che a confronto con il 2011 è cresciuto del 38%. A fare da traino è stata in particolar modo la narrativa per bambini e ragazzi, che adesso dispone di una sala dedicata. In aumento anche il prestito multimediale di DVD e CD e gli accessi ad internet. Il polo Artemisia ha ospitato in oltre 125 iniziative culturali, con una media di oltre una al giorno. Ha registrato un incremento nei partecipanti ai corsi di formazione promosse dal Comune in collaborazione con associazioni, che sono saliti dai 112 del 2011 a 173, suddivisi in 20 insegnamenti contro i 13 dello scorso anno. Ancora aperte infine le iscrizioni per le lezioni di yoga per gestanti, che inizieranno a gennaio, e per leggere, per leggere. Un corso di lettura ad alta voce destinato ai genitori, per aiutarli nella lettura dei libri a figli piccoli. Le lezioni prenderanno il via il 7 gennaio. Il polo culturale Artemisia è aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 18.30 e la seconda e quarta domenica del mese dalle 9.30 alle 12.30.